Però volevo fare un esempio a lui, se io vengo lì da te e ti faccio, vedi che già ti spaventi se già mi è vicino, vengo lì da te e ti faccio, mi scusi signor arbitro, lei pensa di avere sbagliato questa partita, è chiaro che tu hai un atteggiamento diverso nei miei confronti, non mi ridi in faccia se ti dico, scusi signor arbitro, però veramente perché non ha voluto arbitro, mi chiamerebbe essere di Marcello a vedere la scena, se io vengo lì e invece ti faccio, oh, oh, senti, oh, perché non mi hai dato, oh, senti la cosa, hai capito, oh, perché non me l'hai dato, perché non me l'hai dato, ma perché non me l'hai dato, scusa, io sono qua, guarda che non sto facendo niente, perché non me l'hai dato, oh, perché, non è andato così, non è andato così, ti secchi, non è andato così, ti secchi, non è andato così.